Popolo di Youtube, mi sono Mustang versione padovana, allora, scusami tanto se ho fatto il video in ritardo, ieri non ero in condizione, ma oggi siamo in condizione ragazzi, mi dispiace tutto un sacco non fare il video ieri perché ieri ho visto il miglior padova, ho visto il padova che volevo vedere, ho visto il primo padova che mi ha convinto, oh finalmente ragazzi, finalmente sono contento e ripeto mi dispiace un sacco cazzo che ieri non ero in condizione, veramente ieri non c'ero proprio tant'è che certe cose ho dovuto recuperarmele perché ripeto non c'ero proprio tanto con la testa, poi figuratevi in treno, una parte ero in treno, già normalmente soffro i mezzi di trasporto, figuratevi anche nelle condizioni in cui ero, ma va bene parliamo del padova ragazzi che ha vinto, convinto e anche a tratti dominato contro una squadra forte come la Virtus Verona, una squadra che ok ai ranghi di partenza non dai vincente ma è una squadra ostica, è una squadra che dà fastidio a tutti, ha pareggiato col vice che è la grande favorita di questo gruppo, intanto comunque li abbiamo messi dietro, bene e quindi ragazzi, no ho visto veramente un gran padova, ovviamente ok non è che facciamo un gioco eccezionale però ho visto una squadra più compatta, più coesa e anche con più idee anche di gioco là davanti la Virtus Verona è una squadra molto spregiudicata, è una squadra che, sai la classica squadra che non ha niente da perdere, che quindi ti punta, non dico a vincere ma ti punta comunque a classificarsi in buone posizioni e quindi con questo è anche spregiudicata proprio perché ha la mente leggera, però noi oggi già ieri ragazzi li abbiamo messi sotto, li abbiamo messi sotto a cuccia ragazzi veramente, un primo tempo dominato, non ci siamo andati in vantaggio per scarsa precisione magari, poi dopo anche loro si sono salvati un pochino in extremis con certi interventi e dopo secondo tempo ragazzi, con l'unica sbavatura là dietro l'abbiamo avuta nel secondo tempo in cui loro ci graziano con quel palo cioè ho visto un po' i fantasmi della partita del playoff, perché ragazzi nel playoff è stata una cosa abbastanza simile, ok? poi dopo ce l'hanno anche rubata in quel caso, ma vi ricorderete quanto me ero incazzato quella volta e nel secondo tempo ragazzi poi la sblocchiamo, entra Villa, segna, bene comunque che abbia segnato perché alla fine Favalle gli aveva rubato il posto giustamente, forse adesso si è rimesso in discussione di nuovo per il ruolo là a sinistra di esterno quindi ragazzi bene bene che comunque c'è questa sana competizione anche all'interno della squadra poi dopo cambi vincenti di Torrente che mette dentro Russini che per me è un giocatore che deve trovare più spazio, ve lo dico già è vero che poi c'è una papera del portiere secondo me, però comunque è uno che ti dà sempre vivacità quel giocatore soprattutto se lo metti là sull'esterno a sinistra come ala e infatti appunto ci ha trovato il gol quindi un Padova che ha vinto convincentemente, che mi è piaciuto, poi ragazzi io ve lo dico il reparto migliore è sempre il centrocampo che oggi ha fatto bene nella fase difensiva Fusi mi è piaciuto molto quando è andato a coprire ma soprattutto ragazzi, poi c'è un Varas che sta crescendo tantissimo questo merita la titolarità, così qual è, radrezza Varas devono essere titolari il terzo se la giocheranno Fusi, Cretella, Dezzi, insomma sta gente qua però per ora forse questo è il miglior centrocampo che ho visto a oggi penso che devono essere titolari loro e ragazzi però io penso sempre che il migliore sia il nostro solito splendido Igor Radrezza tutto parte da lui, io penso che questa squadra non esista senza Igor Radrezza qua ovviamente non si può dare colpa all'allenatore, ok? qua si dà la colpa alla società se c'è questo problema quindi incrociamo le dita, Radrezza deve esserci sempre capiterà magari che verrà squalificato una volta, vabbè può succedere però dobbiamo pregare che ci sia sempre questo giocatore, che resti integro è importantissimo per questo padua, per me è sempre il migliore in campo ragazzi sempre lui, per quanto Varas giochi bene, anche lo stesso Favale lo stesso Capelli ha giocato una gran partita pure la difesa ragazzi meglio, Delicari è sempre il migliore ho visto un bel increscita che vi avevo già detto pure Crescenzi ho già tenuto bene la linea spero sia un bel segnale appunto questo perché contro una bella squadra però ragazzi ripeto Radrezza è troppo importante per questa squadra troppo bene anche Liguori e Bortolussi anche se continuo a dire che Liguori secondo me non rende al 100% questa è una cosa che mi rimane anche oggi in testa però comunque sia, ripeto la cosa positiva di oggi è che vedo una squadra che è coesa finalmente in fase difensiva e in fase offensiva più in fase difensiva cioè nel senso non abbiamo sofferto tanto abbiamo preso bene le misure mi è piaciuto finalmente forse, forse dai, forse Torrente mi ha oddio, forse Torrente mi ha sorpreso perché ragazzi io pensavo che sto 3-5-2 fallisse per quello che ho visto nelle prime partite invece forse mi devo ricredere attenzione con questo non vuol dire che dopo le prossime se fai schifo io non ti critico lo faccio eh però ho delle buone impressioni dopo vi ricordate anche con Caneo che ero partito pessimista poi stavo iniziando un po' a chiedere scusa e poi invece mi sono reso conto che avevo ragione quindi ragazzi calma io oggi guarda tanto Torrente gli rifilo un bel 7 guarda sono contento bravo sono molto cioè insomma vedo che il tuo stai lavorando bene sullo schema cioè vedo che stai non lo so cioè magari non hai il piano B ancora magari ti chiedo ancora di lavorarci però sullo schema 3-5-2 vedo dei miglioramenti finalmente quindi dai avanti così e adesso puntiamo alla prossima e adesso ultima cosa e poi vi saluto dopo questa partita io credo che il Padova possa essere competitivo per vincere il gruppo ora penso di essere convinto di questa cosa prima all'inizio non lo pensavo poi ho avuto dei dubbi adesso penso che si possa provare a vincere ripeto non siamo i favoriti i favoriti sono altri però dopo questa dai ho più fiducia nella squadra iscrivetevi al canale YouTube se volete se volete mettete mi piace sempre forza Bianco Scudati ciao